Usuario di milquatroora.com, nostro vive direttamente qui fuori di Boca Catalina. Un rato passato, sicuramente, ci hanno dato informazione di un caso sumamente lamentabile che succedere qui in Boca Catalina. Ma è ancora un po' chiamata a fare la patina centrale, perché c'è una persona che ha avuto una difficoltà di acqua, ma non c'è sicuramente Liliana Rasmain, del corpo policiale, che ci hanno dato una informazione correcta, e, di più, lo che ci sono, che ci sono stati in cui si amano con una persona che ci sono conosciuta, che ci sono stati aiutati in casa qui sono molto e molto, che ci sono stati a vedere, e ci sono stati a vedere, e ci sono stati aspetti a vedere, ci sono stati a vedere con Liliana Rasmain, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.